L'Italia è considerata un po' il ventremolle dell'Europa occidentale quanto alla difesa dell'Ucraina e all'opposizione a Vladimir Putin, perché una grande parte dell'opinione pubblica è molto sensibile agli argomenti appunto di Putin, abbiamo questi opinionisti che scorrazzano in televisione dicendo cose secondo me in consulte e anche quanto al diritto di Israele di vivere, di esistere, devo dire che purtroppo grandi parti dell'opinione pubblica nostrana si dimostrano sempre abbastanza tiepide, diciamo così, da questo punto di vista. Ecco, io penso che entrambi siano grossi errori, perché la indipendenza ucraina e l'esistenza di Israele sono di fatto la garanzia che i presidi dello Stato liberale, delle democrazie occidentali resistano all'attacco a cui sono sottoposte in questo momento dalle grandi autocrazie Cina, Russia e Iran. Ed è di questo che voglio parlarvi oggi, che il 4 settembre 2024 io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan. Una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente, dal mio punto di vista. La vicenda della guerra in Ucraina, dell'invasione russa del suo vicino e la crisi israelo-palestinese, cominciata con il massacro del 7 ottobre, a cui è seguita poi l'invasione della striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono naturalmente due vicende molto diverse che non possono essere paragonate l'una con l'altra. Eppure dal mio punto di vista esiste un comune denominatore tra queste due vicende, tra queste due storie terribili ed è che entrambe rientrano, secondo me, dentro un disegno preciso. Il disegno che le principali autocrazie del mondo, cioè Cina, Russia, Iran, hanno di screditare e di sconfiggere le democrazie occidentali, le democrazie liberali, le democrazie costituzionali, come la nostra. Ed è un tentativo, diciamo così, un piano che si svolge su due livelli che corrono paralleli. Da un lato c'è il tentativo di dimostrare, dal punto di vista, diciamo così, teorico-politico, la inefficacia, l'obsolescenza del modello della democrazia liberale. Si vuole dimostrare che le autocrazie sono più efficaci, più capaci di decidere, più capaci di darsi anche dei piani di lungo periodo, mentre le democrazie sono deboli, sono permeabili, sono volubili. Ovviamente con questa loro strana abitudine di fare le elezioni finiscono con non essere in grado di prendere decisioni a lungo termine e quindi c'è uno sforzo politico che poi si svolge, e in questo la Russia di Putin è sicuramente maestra, con quella guerra ibrida legata proprio all'informazione, all'uso dei social media, che serve anche a sostenere partiti che guardano con simpatia a queste autocrazie in Occidente. Basti pensare alla soddisfazione di Putin per la vittoria di FD in Turinja e in Sassonia. Eppure si direbbe che è strano, posto che Putin ha invaso l'Ucraina dicendo che l'Ucraina era un paese nazista, il fatto che poi al Cremlino, e lo si vede dai media russi, si sostenga moltissimo Björn Höcke, che è appunto il capo della FD in Turinja e che ha sicuramente delle simpatie neonaziste. Ecco, buffo che Putin invada l'Ucraina e la consideri un nemico perché è nazista, ma poi sostenga i neonazisti in Germania. Insomma, questo è evidentemente parte di un disegno unitario di tipo politico, ma poi ce n'è un altro che è un disegno di tipo militare, a questo punto è chiarissimo e questo disegno militare si è declinato da un lato appunto con l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, che è un'invasione ideologica, non è soltanto territoriale, non è soltanto difendersi dall'espansionismo della Nato. Putin vuole che il modello russo, il modello culturale, il modello politico tradizionalista, appunto antidemocratico, autoritario russo possa e sia e debba essere il modello in tutti quelli che sono i paesi vicini della Russia e quindi i paesi che hanno fatto parte della ex Unione Sovietica. La famosa predica del patriarca Kirill che disse che l'Ucraina è un modello di società deviata, gestita dalle lobby omosessuali e che bisogna invece riportare le tradizioni russe in Ucraina, ci fa proprio capire che non c'è soltanto una dimensione militare ma c'è anche una dimensione ideologica e la stessa cosa vale per il progetto iraniano di distruggere Israele che è portato avanti dall'Iran ma è portato avanti anche dai suoi proxy, come si dice, dai suoi alleati, quindi Hezbollah in Libano, Hamas in Palestina, gli Ufi nello Yemen e l'idea di coloro che dicono appunto che Israele debba sparire, che la Palestina debba andare dal fiume al mare e quindi che lo Stato di Israele non debba esserci più, è un progetto che vuole distruggere l'unica democrazia liberale che esista in Medio Oriente, è chiaramente un progetto fatto contro l'idea di uno Stato liberale, di uno Stato democratico che c'è con Israele ed è un unicum in tutto il Medio Oriente. Ora, sia ben chiaro, io non dico questo perché tutte le decisioni per esempio che vengono prese in Israele mi trovano concorde, al contrario, io sono contrarissimo diciamo alle politiche di Netanyahu e sono vicino a quella parte di Israele che oggi scende in piazza e che protesta e che chiede le dimissioni di Netanyahu e che crede che questa guerra Gaza continui perché Netanyahu sa che una volta che sarà finita la guerra sarà finito anche lui e che Netanyahu non voglia arrivare a un accordo, a un cessato il fuoco proprio per questo motivo e in Israele appunto la gente scende in piazza a centinaia di migliaia ma questo, ricordiamolo, può succedere soltanto perché Israele è una democrazia. Se Netanyahu ha un'opposizione che si fa sentire, che alza la voce, che blocca il paese, che sciopera è perché questo in Israele è possibile mentre non è possibile in nessun altro luogo del Medio Oriente, non è possibile in Iran, non è possibile nella striscia di Gaza, dove governano gli islamisti tutto questo non può accadere. Allora se le cose stanno così io penso che la difesa dell'indipendenza dell'Ucraina e la difesa dell'esistenza di Israele che ripeto non significa appoggiare tutte le decisioni del governo attuale di Israele, significa dire che Israele anche quando sbaglia va difesa nella sua possibilità, nel suo diritto, nel suo dovere direi di esistere. Sono interessi che ci riguardano direttamente perché hanno a che fare con la difesa del nostro modello di Stato occidentale, liberale, democratico, costituzionale e quindi se così stanno le cose, se nel difendere l'indipendenza dell'Ucraina e dell'esistenza di Israele stiamo difendendo il nostro modello democratico e quindi stiamo difendendo noi stessi. Allora dobbiamo farlo senza tentennamenti, senza infingimenti, con determinazione, con nettezza, anche quando si tratta di prendere delle decisioni difficili o scomode. Per cui, per esempio, io non sono stato per niente d'accordo né con le conclusioni del vertice governativo, tra l'altro conclusosi in modo abbastanza equivoco tra Tajani, Meloni e Salvini, dove si è detto, e lo ha detto Tajani con nettezza, che l'Italia non appoggia azioni ucraine in territorio russo. Addirittura Tajani ha parlato di bombardare Mosca, insomma mi sembra che sia stata una dichiarazione abbastanza sconsiderata. Però ecco, anche Elish Line ha detto più o meno la stessa cosa. Ecco, io penso che sia sbagliato, perché se l'Ucraina viene attaccata da basi missilistiche che sparano dalla Russia e viene colpita da quei missili, io penso che l'Ucraina debba avere tutto il diritto, come dice Borrell, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, di colpire quelle basi missilistiche. E la stessa cosa vale per l'indipendenza e la sopravvivenza di Israele, la quale può e deve essere criticata in tutti i modi, ma il nostro può essere schierati con il suo diritto di vivere, dicevo e lo ripeto, deve essere considerato un dovere equiparabile a quello di difendere la nostra stessa Costituzione repubblicana. Io mi fermo qui, ci sentiamo domani, sempre all'ore 11. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.